La campagna abbonamenti ai nastri di partenza e alla VL vuole assestare un colpo di mercato per spingere i pesaresi verso l'Adriatica Arena, anche per la stagione 2018-19. La società biancorossa avrebbe messo gli occhi per il ruolo di centro sul giocatore lituano Egidius Mokevicius. 25 anni, 2,7 metri di altezza per 108 kg, Mokevicius è stato medaglia d'oro ai mondiali Under-19 con la nazionale lituana. Due anni fa ha giocato nei Long Island Nets per poi tornare l'anno scorso nel massimo campionato lituano. Un mercato, quello della VL, nel quale finora sono sfumati diversi giocatori sui quali la società aveva puntato. Fontesecco, Cerella, Monaschini, Frassinetti e il play London Perrantes. Tra i cestisti che facevano parte del roster pesarese nella passata stagione, Rodney Clark è finito in A2 a Trapani, Cerone e Mica Brescia, Monaldi a Varese.